Il fatto che nella Chiesa, pur essendo un Vescovo solo e pur essendo una diocesi sola, conserviamo cinque nomi, vuol dire che non vogliamo cancellare l'identità, ma vogliamo fare rete. Il mio saluto a Simbola e agli amici, ormai sono otto anni da quando sono qua, quindi è quasi dall'inizio di questa esperienza, che ha dieci anni, anche un tentativo di dire qualcosa fuori dal coro, perché io dico sempre che rispetto al mondo dei politici, a me il Papa quando mi disse che veniva a fare il Vescovo qui mi disse che fino a 75 anni, quindi mi ha dato una nomina per 21 anni, e ho potuto programmare con una logica di 21 anni, non di 5 anni, e questo è un modo diverso di guardare al mondo, forse bisognerebbe che fosse più frequente questo. Chi siamo e cosa possiamo fare per l'Italia? Per la mia formazione classica ho subito trovato sintonia con il titolo di questo incontro, Chi siamo e cosa possiamo fare per l'Italia? Questo titolo segue infatti un principio logico fondamentale della filosofia dell'essere tomista, agere seguitoresse. Puoi, anzi, devi operare solo a partire da ciò che sei, e più in generale da ciò che è reale. In una visione aggiornata di Sant'Ommaso, devi partire dal concreto vivente, come direbbe Guardini. Sembra scontato pensare questo, ma spesso avviene tutt'altro. Ad esempio, le grandi crisi economiche che ci hanno flagellato e ci sconvolgono tuttora sono frutto di un modo di pensare del tutto diverso. Non agisci a partire da ciò che sei. La finanza creativa ha agito non a partire dall'essere, ma da un possibile sognato narrato che spesso ha mostrato dei piedi d'argilla ed è scoppiato come le bolle di sapone. Solo che le bolle dell'economia, quando scoppiano, uccidono più persone delle esplosioni atomiche. Chi siamo? La domanda diventa ancora più impegnativa se prendiamo coscienza del mutamento antropologico in atto. Tanto per onestà intellettuale, questa locuzione oggi tanto invoca, mutamento antropologico, è un'invenzione geniale di Pierpaolo Pasolini. Nei suoi scritti corsari del 1974, la mutazione antropologica dice che non siamo più gli uomini e le donne, i bambini, i giovani, gli adulti, i vecchi, i genitori e i figli del passato. Tutta questa realtà è cambiata, questo modo d'essere. Ma questa mutazione è ancora in atto, per cui non siamo ancora gli uomini e le donne, i bambini, i giovani, gli adulti e i vecchi, i genitori e i figli del futuro. Non a caso nessuno osa chiamare questo nostro tempo. Definire questo nostro tempo postmoderno è solo dire non so in che tempo mi trovo. E non so definirlo, so solo che sta cambiando. È il post di qualcosa, ma non so che cosa sarà dopo. Oggi dobbiamo fronteggiare, perciò, due tentazioni, e secondo me questo è importante. La prima è quella di credere di poter tornare indietro a un mondo che non c'è più. E anche, mutazione antropologica, ad un'umanità che è in cambiamento. Non basta tornare ai ruoli di prima, o all'identità di prima. L'altra tentazione è di correre verso il futuro, senza sapere dove sia ognuno, dove corre, dove va, seguendo soltanto il proprio naso. Così non si raggiunge una meta comune e solida. Mi dispiace se vi aspettate grandi certezze dal mondo della Chiesa, ma il mondo della Chiesa, che riflette sulla sua grande tradizione culturale e vive nell'oggi, può solo dire che questo è il tempo di tastare il terreno, di confrontarci sulle verità che ci sembrano solide e che in un confronto sereno appaiono più affidabili. È il tempo di aprire lo sguardo ai segnali che sembrano tracciare sentieri buoni e di credere che se si cammina insieme, anche se più lentamente, si può più sicuramente trovare la strada buona. Devo dire che un tempo più sbagliato di questo, per dividere l'umanità in blocchi contrapposti e per fare la guerra, non potevamo trovarlo. Cioè se c'era una cosa stupida da fare in questo tempo era accentuare la divisione dell'umanità in blocchi economici, ideologici, culturali e metterci a fare la guerra. E ci siamo riusciti perché, come dice Ennio Flaviano, per la prevalenza del cretino, la madre dei cretini è sempre incinta e spesso gli nascono gemelli. Per cui, forse il nostro santo protettore si chiama Tafazzi, non lo so se... Partiamo da qui. Chi siamo stati? Non vuol dire che saremo chi siamo stati, ma sapere chi siamo stati non è stupido. Chi ragionevolmente vorremmo essere? E quel ragionevolmente, come diceva un maestro a cui continuo ancora a riferirmi, che si chiama Josef Ratzinger, quel ragionevolmente fondamentale, chi ragionevolmente vorremmo essere e soprattutto come possiamo farlo insieme. La Chiesa a livello universale e locale, italiano, sta molto parlando di sinodalità. Che è una bella parola. Se resta una parola è un disastro. Sinodos vuol dire fare strada assieme. Credo che questo sia un must fondamentale per approcciare questo tempo e le sfide di questo tempo. Ecco, queste sono le mie stupitaggini di quest'anno. Grazie. 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 Grazie.